Non aprite agli estranei. Che fanno? Si vanno a rubare. Con la scusa del... Della mascherina. Io la provo per sciurire, ma mi devo provare qua. Le bussarici sono con i dottori. Ho già portato la mascherina. Non volevo mettere una maschera. E ti la porto. Perché? Perché gli stanno a rubare. Non sono dottori, veri? Non sono dottori, non sono dottori. Perché c'è qua?